È bronzo legit Sì 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 Bronzo legit Perfetto Sprattutto i 26 game giocate su Yumi E 0% win rate Let's go Ma voi lo sapete Che quando ci sono i the ranker in team A me scatta quella cosa A me scatta quella cosa ragazzi A me scatta Scatta la foto esatto Ah proprio inting Proprio così neanche softy Proprio inting Vado a regalare le kill Ok capisco Buonasera Fieroic Sono passato solo a rinnovare l'abbonamento Sono sommerso dallo studio Sì sì Proprio Proprio così Capi Oh sì Beh Grazie Grazie Finici per il res sub Bentornato Ok vediamo se riesco a carriarli Spero che il resto del team Sia decente E anche col derunker Ce la facciamo Va bene Purtroppo ragazzi Un attimo tre hardare Perché avremo Una Gwen un po' Fiddata In sto game Mi vedrete tre hardare Parlerò meno Io non so le regole E come posso Stare a rinnovare Ok Ok Iniziamo a prendere un po' di soldi Al first strike Allora E0 l'ap In realtà Non è proprio Il massimo del massimo Per carriare Se andassi a di Sarei più forte Però allo stesso tempo Secondo me È fattibile anche a P Dovevi provare Sapete cosa Adesso il nascertut È buonissimo Su Ezreal Ora non è niente male Il nascertut Su Ezreal Vi dirò Ok Vediamo che abbiamo fatto cassa Abbiamo fatto cassa Dai ragazzi Lo so che vi eccitate di più Quando mi vedete giocare Contro i The Ranker Soprattutto Con giochi ampioni Che non sono Schifezze Tipo Galio Anche se in genere Ecco Quando ci sono i The Ranker Vabbè dai Lucia ne era partito Sì Era partito una kill Però Non aveva altri oggetti Quindi Ok Ok direi che Ha fatto una kill però Questa sa di essere Quel grande fieri Che vuole fare Bella figura Oh Liscio Vabbè Abbiamo fatto Un altro po' Di Di cassa Farme buono Ok No Vabbè Meno ho preso l'exp Oh oh No Warwick Oddio santo L'ha flashato in faccia È questa È No È quel Oddio santo Vabbè Sarà fermata C'è Nico Gli ha flashato in faccia Ragazzi Io non ho parole Allora iniziamo Dei leech bin Ovviamente Ok Il circo Ci piace Sta partita qua È molto speciale Più comunque sono Abbiamo visto che è uno Smurf A parte C'è A parte il La kill che ha regalato A livello 1 Dove chiaramente Vole a perdere il game Però per qualche motivo Poi Ho stompato Forse Vole un po' divertirsi Per ad intare pesantemente Questa è un'altra Delle tecniche Che vengono utilizzate Una delle tante tecniche Utilizzate Nel mondo del Deranking Minecraft lo faccio Il pomeriggio Dalle 15 Alle 18 Takete Non male Inizio già un po' di danni Quale tecnica preferisci? Io? Mia sorella vuol dire Che gioca La sua Nivea Non so di cosa tu stia parlando Boom Bei danni Dai Ezra è il buono Per carriare Con i Deranker Anche se Non sta più intando Sona Per qualche motivo Passa Passa Eh ora passa davvero Dio Ho lisciato il Gianni Eh dai Qua ho vintato Può che A che distanza Mi ha preso Eh qua mi è stato Un sacco di cu Ma si muovono a caso Non capisci come si muove Sta gente Ma che cazzo Vabbè Tipo? Sì tipo Pippo? Pippo Cioè ma l'avete visto Sto eco qua Come mi faccia Il giro attorno a caso Cioè sembra Non so Mi viene a mal di testa Effettivamente Difficile Per vedere Uno che si muove A cazzo di cane Non è scontato E ricordiamoci Ricordiamoci sempre Che Paolo La primissima live Che abbiamo fatto insieme In Iron Non riusciva a grabbare I nemici Mi sa tutti grab Come la botte Le stia così Ma chi è che gioca A Felius in Iron Dio santo 5-0 Vabbè ragazzi O comunque Non ci stanno i the ranker In team Porca puttana Il team fa sempre Cagare Cioè È incredibile Sta cosa Stiamo a una bella Ulti qua Ok Ok Passi Passi 200 Ottimo che sta pieno di gente Qua ragazzi È più divertente Quando i teammates Fanno cagare È sicuramente È più divertente Quando fan cagare Che quando stompano Però allo stesso tempo Diciamo Quando fan cagare E c'ho già un tizio Che perde appositamente Cioè Lì preferisco Che siano un po' più forti 0-3 0-3 Ok Forse ho più di un the ranker In team Forse il problema È quello in realtà Ok Forse ho più di uno 1-3 0-3 0-3 Sdong Questa faccia male Questa faccia male Ragazzi Questa faccia un bel po' male Ve lo dico io Back Andiamo alla Leech Bane Ok Oh Pure il quit A posto E l'account 10 euro Che abbiamo comprato 10 euro L'altro giorno Possiamo buttare Comparando un altro Ci siamo divertiti Abbastanza L'account Usa e getta L'abbiamo fatto Easy Tanto per il prezzo Che c'hanno gli smart Sono a count Usa e getta Questi ragazzi Ok Beh Oh Ah c'è sbagliata Sacchete Eh Vabbè Me lo merito Ho preso il punto Più grosso Proprio sto pisello E c'è quest'albero Di merda Porca puttana Vabbè 10 euro E troppo sbaglio Account bronzo Anche a 5 Vabbè 5 euro Insomma Quello che Proprio account Lo compri Poi lo giochi 7-8 game Dici vabbè Buttiamolo Eh Eh Sì ragazzi Forse era meglio Di 10 minuti Di coda Che dite Forse era meglio Di 10 minuti Di coda No Secondo non avvicina Costano Cazzo ne so Sai com'è Non li compro 3 euro Bronzo Ma il fatto Che ora Essendo tutti Livellati Ai botti I prezzi Sono bassissimi Questi Possi fanno L'herald Adesso Moj Chiama il Sorrend Io non Sorrendo Sti cazzi Tanto Ormai C'è Do'aspettare Mezz'ora Per trovare i game Tutte le volte Aspetta Mezz'ora Che torna la partita Poi do anche Sorrendarla Cioè Dico più Niente Bentornati ragazzi Come state Quest'oggi Come state Quest'oggi Ragazzi Bella Ult Oh Attenzione Vai Moj Vai Ok Po' di ping Nel frattempo O la 0-4 Magari saranno Pure questi The Runker C'è Ok Che cosa Magari sono The Runker Anche la bottling Pensa che ridere Tretterà anche In un game 3 su 4 Ma che cazzo Volete tutti da me Non capisco Sono l'unico che gioca Quindi ovvio che vengono tutti i mid Le insannoiano Non sanno cosa fare Si sta Lo capisco Ha perfettamente senso Non vi giudico ragazzi Non vi giudico Si annoia Non sanno cosa fare Ma sono tutti in bottine Tutte le summoner Ma quel minion Ah ecco infatti Dicevo Minion un po' Un po' bigo Direi Warwick ovviamente Non partecipa Alla partita Perché è tiltato Lui Dalla sua esistenza Better mid wins Ragazzi Better mid wins No no Io sto game Lo voglio sui Fairy Kloll No perché Cioè Per me League of Legends È un business Devo fare Le uncut per Fairy Kloll E queste sono le partite Che mi ritrovo Quindi perché non dovrei Mettercela Cazzo i vostri Fairy che i gameplay Sono di bassa qualità Eh Questo è League of Legends Ragazzi Vai un altro Ah Due Ma costa un casino Senza Fierik fierik che palle Una volta le in cat Erano molto più divertenti Maledizione ragazzi Mannaggina direi io Mannaggina Fieri, Fieri ma quando port passi la Minecraft All'ol fai la metà dei viewers Eh E mi ci scomparsi Sicuramente per i bambini Che sono meno viewers sul lol Non perché il gioco è una rottura di coglioni Abnorme Io aspetto Vedo se votan loro su elrendi Io non faccio niente Tutti qua Vai prendiamo Ezreal Tanto è l'unico che gioca Piatelo, piatelo Guarda, tutti Tutti AFK Tutti AFK sono Tutti AFK Oh no, io gioco Io gioco per come è inteso il videogioco di World Legends Siamo qua So che è presto Ma il reward Irel Che arriva settimana prossima Suggerisce una duo bot Evviva Di questo tipo Rele e Karim E funziona così Con la nuova Irel Sentiamo La velocità tua e degli alleati Potenzi l'IDI e Karim E in due arrivate come Ferrari Sugli avversari One shot Ok Ok Vorrei di darci un'occhiaio Sì, sì, sì Dici Quando avrò smesso di giocare League of Legends Va bene Subito Grazie Jit Fran Ecco qua Sì, sì No, no Ma sicuro Tranquillo bro Lo faccio Faccio Reborni Irelmi E il convincerà A giocare Al videogioco Tranquillo Grazie Chemoth Grazie mille del resub Bentornato Grazie Fenice Anche te del sub Tornato Fiddlestick Meno male Meno male Benissimo Vai, vai 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 Afelius Vai dare l'ottava kill Vai vai Autohat Bravissimo Vai 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 Colpisci Ratatatatatatatata Babam Ok Ci sei quasi Quasi Fiddlestick Quasi Sei andato molto vicino, però Benissimo Beh, vedi che è meglio Minecraft Ma guarda, non c'è bisogno che me lo dite Lo so benissimo Quello insta-ult appena mi vede Ok Cioè, ma non c'è bisogno di Dirmi che è meglio Minecraft Come se non lo sapessi Allo stesso tempo, cinque ore di Minecraft Piuttosto Mi ammazzo Uno cinque, Nico, nel frattempo Vabbè Ora campero Stiamo qua Attendiamo Vediamo se qualcuno è a prendere il blue buff, ragazzi Puoi far ridere che non sorrendano quelli C'è un altro che è tiltato Poi c'è un terzo e invece non sorrende Cato, abbiamo preso quelli inutili Vai, tutti, tutti insieme Piateli, piateli Vabbè Devi finire su YouTube con questo video La gente deve vedere Se inizieranno a uscire meno uncato o smettere La gente deve sapere il perché No, no, esce Però anche l'unico in positivo La gente deve vederlo Cambiamo account Cambio account, magari adesso Guarda, non riporto neanche Sona Perché tanto ho già buttato l'account Cosa cambia se bannano Sona, ragazzi? Cosa cambia se bannano Sona? Vedete, l'ha preso È arrivato in bronzo Basta, si butta Vedete? Vorrei buttarlo Abbiamo fatto le nostre win Abbiamo inventato tutti i game Siamo andati a F Abbiamo fatto tutte le nostre win Easy Si butta la c***a